se non è un testa coda poco ci manca il giulianova per poter riassaporare il gusto della vittoria mentre i padroni di casa vogliono ripetere la bella prova contro l'avezzano con le immagini di mario giacchetta andiamo a rivivere l'incontro che parte al quarto rossi fa tutto da solo serie di dribbling provvidenziale l'intervento di bocca nera che ritorna sull'attaccante poi quasi un monologo giallorosso al diciassettesimo si se imbeccato benissimo va via verso la porta di giangiacomo conclusione assolutamente da dimenticare due minuti dopo traini di testa riprende un pallone che poteva addomesticare meglio preferendo la deviazione di testa di prima intenzione debole al ventunesimo l'episodio che sblocca la gara di paolo alla rincorsa della sfera che tocca con la punta del piede l'intervento di giangiacomo in uscita per cavacini di lanciano e penalty dagli 11 metri buonavoglia a mezza altezza trasforma l'uno a zero la possibilità per il raddoppio per il giulianova 15 minuti più tardi sui piedi di federico di paolo che però ottiene solo il palo del lato opposto a quello di tiro ma la sensazione è che poteva fare meglio si chiude qui in pratica il primo tempo nella ripresa al secondo si se scalda le mani a giangiacomo poi a va in cattedra il villa poi sale in cattedra il villa dieci minuti dopo si divora con rossi una clamorosa palla gol la replica giallorossa sulla testa di cappelli che chiama in causa ancora l'estremo bianco rosso ma è un altro villa rispetto al primo tempo mentre il giulianova sempre disunito e poco accorto troppi gli errori in uscita e su uno di questi subisce il rigore minuto 28 rossi viene contratto in area fallosamente addetta di cavacini che non ha dubbi ad indicare il dischetto di giovanni palla a destra e portiere a sinistra uno a uno giulianova shock prova ad approfittare il villa 43esimo perde palla di paolo prova ad approfittarne d'incecco bocca nera è presente poi 5 di recupero nei quali il giulianova le prova tutte il piatto di di paolo il diagonale di buonavoglia ma soprattutto il centrale di fermo sul quale chiude il braccio di giangiacomo pari di prestigio per i padroni di casa per il giulianova un ennesimo amarissimo pari mister il vantaggio nel primo tempo occasioni un palo si doveva chiudere prima poi il villa nel secondo tempo un'altra partita è venuto un pari sì sicuramente si doveva chiudere prima che non è una partita da lasciare aperta fino alla fine anzi c'è visto il primo tempo sinceramente è stato quasi quasi a senso unico ma troppe occasioni per non chiuderla troppe occasioni per non far male in un modo decisivo l'avversario purtroppo quando la lasci è aperta così loro hanno approfittato di qualche leggerezza nostra e poi si è ribaltata pure a livello psicologico la partita è andata su un binario che noi non volevamo quello a livello psicologico perché è stata una partita poi condizionata da da tanti fattori di soprattutto dal fatto di di non prendersi le responsabilità o addirittura avere paura di giocare o di sbagliare allora mister un primo tempo in cui vi siete chiusi troppo c'è stato solo il giulianova nella ripresa un altro villa completamente beh non direi ovviamente rispettiamo le qualità del giulianova abbiamo fatto una partita attenta il primo tempo perché sapevamo che magari all'inizio loro giocando contro l'ultima in classifica provavano a portare subito il risultato a casa quindi siamo stati un po più accorti però abbiamo fatto il nostro gioco abbiamo avuto anche le nostre occasioni il primo tempo poi il secondo tempo abbiamo sistemato qualcosina dove potevamo già pareggiare subito esatto secondo me potevamo far male al giulianova l'abbiamo fatta l'abbiamo fatto bravi ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta di avere tanto coraggio perché siamo partiti sempre dal basso a giocare abbiamo giocato a tratti una qualità a tratti di qualità ovviamente il ringraziamento va loro perché non mollano mai neanche in allenamento e lo dimostrano la domenica quando scendiamo in casa